Ciao a tutti, benvenuti. Oggi abbiamo Raul Bova, Chiara Francini. Io sono Reduce dal vostro spettacolo, l'ho appena visto e devo dire che è veramente meraviglioso. Parlatemi dei vostri personaggi. Lei lo sa sicuramente... Allora, è una coppia che sta insieme da un po' di anni, che convive, che decide di sposarsi e quindi la vita diventa un pochino più movimentata perché sono molte le domande che affiorano soprattutto Paola e Marco è questo ragazzo che l'ama profondamente, che però cerca di dare delle risposte quando in realtà è impossibile dare delle risposte, soprattutto a una donna come Paola. Bravo, vedo che hai studiato. Grazie. Parlami invece di Marco. Ma lei non ha parlato di Paola però, ha parlato della storia che non vale questa cosa. Io devo parlare di Marco. Marco è più o meno l'ha detto, è l'immagine dell'uomo comune, diciamo che più o meno si sono delineate secondo le statistiche quelle che sono le caratteristiche dell'uomo che tendenzialmente rimane un po' più in superficie. La donna è un po' più analitica e cerca di andare, fa tante domande e cerca le risposte dall'uomo. Spesse volte l'uomo non sa cosa rispondere, risponde la prima cosa al caso e quello è proprio la sua autocondanna perché poi a un certo punto viene attaccato furiosamente, messo all'angolo e non sa più come uscire. Però tutto è in tono di commedia quindi è molto divertente, almeno speriamo, quella è l'intenzione. Confermo che è veramente divertente. Qual è il segreto per vivere in due? La pazienza Lei è sempre sicura, io non lo so Infatti siamo diversi, siamo due, a volte sarebbe uno Non lo so, sinceramente devo ancora scoprirlo Vabbè ma tanto si scopre solo vivendo, no? Invece cos'è per te l'amore? Per me niente, l'amore è una cosa bellissima Parliamo di teatro Cos'è per te l'amore? L'agevolazione fissile che ti dà? L'agevolazione fissile che ti dà? L'agevolazione fissile che ti dà? Beh l'amore è il motore che muove il mondo Vedi che c'è le frasi fatte Ma c'è le frasi fatte, sono una ragazza colta Ma era lui che però parlava di Epicuro, giusto? Esatto, esatto Perché comunque c'è la ricerca della felicità Cos'è l'amore? Però no, la felicità è una cosa diversa dall'amore L'amore è anche felicità E tu sei felice? Madonna, ma chi sei Marzullo? Vedi che ti attacca Io voglio fare l'intervista con lui Perché ti ho risposto appena una domanda E mi riattacca Qual è il complimento? Certo, è ovvio che sono felice Io sono sempre felice Guarda, ogni giorno della mia vita ringrazio Ringrazio di quello che ho Perché ci sono tante persone che stanno molto peggio Quindi bisogna accontentarsi e essere felici Qual è il complimento più bello che avete ricevuto durante questo tour? Queste 25 tappe che avete fatto per ora? Che sono vera, che sono spontanea, che sono brava Ma non è vero Ma come non è vero? Ma che ne sai? Ma chi te l'ha detto? Ma tutte, le donne Sì, eh? Sì Io confermo, è bravissima C'è stata una standing ovation di donne là in fondo E io ero presente No, è vero, lo confermo anch'io Molto brava, molto vera, molto sincera E a te che complimenti ti hanno fatto? Ma a me nessuno Ma non è vero Io vivo di luce e riflessa La cosa bellissima è vedervi affiatati sia sul palco che fuori Penso che sia nata una bella amicizia Eh, amicizia è una parola grossa Che senso? Beh, perché Cioè, io Il termine amicizia è una Cioè, l'amicizia Dal latino amicizia È una cosa che Cioè, comunque l'amicizia è una cosa importante Che ci vuole del tempo, va confermata Ma su questo è un condivido Eh? Con condivido? Eh, cioè, non è che adesso uno ha lavorato insieme e diventato amico Ci si conosce Ah, va bene, bene E poi forse domani si diventerà amici Con calma Sì, sì, bene, bene L'amicizia è una cosa molto preziosa Quindi non siamo neanche amici Beh, ci conosciamo Potremmo diventarlo Va bene, va bene Ora vediamo Cosa vi aspettate da due? Eh, ci aspettiamo di Oltre a questo successo che comunque è stato riscontrato Eh, no, ci aspettiamo di dare, insomma, un affresco Di fare in modo come sta succedendo Che le persone inevitabilmente si rivedano in quello che mettiamo in scena E quindi, insomma, essere in sintonia con gli altri esseri viventi Insomma, è una bella cosa Il nostro è anche un talent Voi che consiglio volete dare a tutti i ragazzi che vogliono intraprendere il mondo dello spettacolo? Studiare Beh, spettacolo io direi di... Proprio perché ultimamente lo sto vedendo il risultato e tutto quello che dà il teatro Direi di iniziare dal teatro E quindi, cioè, spettacolo tu intendevi spettacolo in genere Il teatro è un buon inizio Soprattutto una base molto importante Noi vi ringraziamo Vi auguriamo tantissimo successo ancora come quello di questa sera E speriamo di potervi rincontrare ancora Perché tornerete a teatro Non aspetti altri tot anni, non dico quanti Non lo so, ma i complimenti li hai fatti solo a lei Quindi dipende, insomma Ma sei bugiardo, guarda, veramente Lei è bravista, è standing ovation Quindi, voglio dire, può darsi pure che lei tornerà qui a Torino con un altro attore, non lo so Beh, se diventiamo amici magari ti porto Grazie Noi vi aspettiamo tutti e due Grazie